Ragazze scusate, una domanda al volo Allora, secondo voi qual è la migliore hamburgheria qui a Riccione? Mi Burger Così? Assolutamente Mi Burger Senza ombra di dubbio Voi già avete mangiato, vi vedo belle piene Abbiamo appena finito Ok, cosa avete preso? Vai domandina al volo Io ho colazione da Tiffany Con un uovo stropitoso dentro Io invece il Mi Burger con la parmigiana, melanzana di parmigiane Allora, sapete che vi dico? Me lo consigliate? Mi siedo e mangio? Assolutamente Ok, io mi siedo e mangio però prima... Un attimino, aspettate eh Dato che secondo me non siete sazi, oddio, forse... Per chiudere in bellezza una mega porzione di patatine totalmente ricoperte di cetta Ci sta Buon appetito e grazie, io mi sedo a mangiare Grazie a te Grazie mille Hamburger presi ma prima di andare all'assaggio mi raccomando metti mi piace e segui Mamma mia raga sono giganti Ma come si morde una roba del genere Cioè praticamente lo mordi, non è che arrivi alle stelle, arrivi in un altro pianeta, non capisci più un mondo Mi trovo qui da Me Burger E mi raccomando tagga qui sotto nei commenti un amico che ti ci deve assolutamente portare Ovviamente offre lui